Poche cose, il primo è il mio desiderio, anche un po' non voglio dire come, è sempre stato quello di essere diretta da te, quindi questo desiderio si realizza. Il secondo, i rapporti Italia-Francia, do un importante contributo nella frequentazione della città di Parigi, non so se mi può valere un patrocinio dell'Istituto Culturale Francese, vorrei chiedere a chi mi ha preceduto di intercedere, no? Qualche sconticino a Parigi nelle tante volte che vado. Il terzo, che il mio libro è la biografia di Alda Merini, dico là perché non esisteva ed è veramente un libro da leggere, uscendo da me stessa un libro speciale, bellissimo, che mi è costato tanti anni di lavoro ma per me è fondamentale, un libro di svolta, quindi è bellissimo essere per la prima volta in una letteria, ma potevo dire di sì solo a te, a Giulia ovviamente, perché essere invitata a una letteria a scatola chiusa e il quarto è che ora andiamo a bere un po' di vino, il quinto nel 2020 concediamoci il diritto di essere felici.